Nel cuore storico di Pistoia, nelle antiche sale del convento del Tao, puoi scoprire l'arte di Marino Marini, l'energia dei cavalli e dei cavalieri, la gioia dei festosi giocolieri, l'espressività dei grandi personaggi del Novecento e la morbida dolcezza delle mitiche pomone. Regalati una visita al Museo Marino Marini in corso Silvano Fedi 30.